Noi non ci sentiamo, me l'hai detto, ma questa non si vede niente, va bene? E come faccio a riprendere? Via dall'elica! Ma lei è che sta proprio vicino? Noi non ci sentiamo, non ci sentiamo. Noi 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 non ci sentiamo. Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti